Si è conclusa a Teramo con successo e presenza di visitatori la prima fiera Mercato del Benessere. L'evento ha inaugurato il progetto regionale Abruzzo Regione del Benessere che ha scelto il capoluogo a Prutino come la prima città da cui partire. Il programma si pone l'obiettivo di contribuire in maniera attiva all'attuazione di strategie volte al miglioramento della qualità della vita e della comunità dei cittadini abruzzesi. Quando noi parliamo di benessere cosa vogliamo dire? Questo è un concetto che abbiamo elaborato un po' nel tempo partendo dal tema dell'educazione ambientale. Non limitare l'educazione dei ragazzi alla tutela dell'ambiente infine a se stessa o magari circoscritta in un ambito ben preciso ma estenderla a quella che è un'educazione a 360 gradi della persona. Interessante è partecipata la mostra di espositori e produttori che si è tenuta a Porta Romana nei due giorni dedicati ad alimentazione e benessere. Ci piace far capire al pubblico da dove ci proviene la pasta e quello che mangiamo. Qual è una giusta strategia del benessere? Benessere vuol dire investire in modo sostenibile e consapevole in economia, nel turismo, nella conoscenza, nella formazione, nella ricerca, in tutti quei driver di sviluppo. Investire nel benessere significa strutturare una nuova visione di territorio e di regione. Si può fare una buona impresa con il turismo e il benessere? Non solo si può, si deve fare perché la nuova strategia che la regione ha imboccato è quella di denominare l'Abruzzo come regione del benessere. Secondo me è un ottimo quadro per far sviluppare ancora di più le attività turistiche del territorio. Quello che si vuole adesso fare è creare delle figure che possano testimoniare questa nuova filosofia, che secondo me è molto utile e sarà vincente per il turismo abruzzese, che possano diffondere e possano testimoniare presso tutte le imprese della filiera del turismo. Per questo intendo dire gli alberghi, i ristoranti, i campeggi, tutte le attività turistiche in generale, che possono trarre un grosso sviluppo da questa nuova strategia.